Ecco, bene, adesso facciamo un ultimo accenno alla propria contemporaneità. Abbiamo visto l'11 settembre un decennio, un decennio e mezzo di islamismo radicale, combinato negli ultimi anni con la primavera arabe 2011 e 2016-2019, Daesh, lo Stato islamico, con le sue propaggini, il terrorismo, eccetera. Adesso in che situazione ci troviamo? Tutto questo c'è in qualche modo, non è rimasto questo retaggio, ci sono i rischi dell'islamismo radicale, forme di regime autoritarie anche dall'ex Unione Sovietica, anche in Turchia, non me ne vogliono i simpatizzanti per il regime di Erdogan, ma un regime in cui la libertà di stampa è abbastanza calpestata. Insomma, non è un clima mondiale molto sereno dal punto di vista politico-culturale. Sì, come diceva Fukuyama, la democrazia liberale formalmente è riconosciuta da tutti, così come i diritti dell'uomo, San Città, che sono universali nel 1948, formalmente è da tutti riconosciuta, ma di fatto quali paesi realmente praticano i diritti, li fanno valere? Anche gli Stati Uniti sono sacche di, come dire, violazione di questi diritti, in certi stadi, da parte della polizia, per non parlare della persistenza della pena di morte, per non parlare della Cina, dove insomma l'emissione di libertà civili e di parola e politica sono notevoli. Le più grandi potenze mondiali non sono specchi di libertà e di democrazia. L'Unione Europea si difende, ma è, se vogliamo, un'isola felice in un mare mondiale di autoritarismo, di un certo scurantismo, di un ritorno al passato religioso o culturale. Insomma, non è una situazione come quella che si sognava negli anni Sessanta, per intenderci. Ecco, a tutto questo si aggiunge la crisi, come abbiamo parlato, la crisi ecologica, ambientale. Insomma, negli anni Settanta i primi libri della Carson e di altri sulle prime avvisarie di questa crisi di carattere ambientale, le conferenze che adesso andiamo a ricordare, quella di Chioto e quelle successive sul problema dell'effetto serra, e tentativi di limitare la produzione di idrocarburi che vanno a aumentare l'effetto serra, o quelli che producono il crano buco nell'ozono, soprattutto queste questioni qua, sono all'odio del giorno, la nostra Greta Thunberg ce le ricorda, ma gli Stati fanno orecchio da mercanti, anche le organizzazioni internazionali, e sono problemi che voi, soprattutto più di me, troverete in realtà l'inquinamento delle acque, l'inquinamento dovuto alla plastica, no? Tutto questo è stato prodotto nel corso di questi decenni, e nessuno ha pensato di limitarlo, ed è un problema di carattere globale, mondiale, ed è sotto gli occhi di tutti. Ricordo che quando ero giovane insegnante ponevo la questione ecologica come una questione importante, quegli studenti mi guardavano, come dire, ma cosa dicono, sono questioni secondarie, quelli di sinistra pensavano più alle problematiche legate ai diritti degli operai, del lavoro, quegli altri di destra pensavano ad altre questioni, ma la questione ecologica non era assolutamente ancora nota. Io da bambino invece leggevo i racconti di Italo Calvino che vedevano come protagonista un certo Marco Valdo che parlava dell'inquinamento dei fiumi e dei mari e mi scandalizzavo del fatto che i fiumi e i mari venissero inquinati senza che nessuno battesse ciglio. Ecco, io non è che ho fatto molto nella mia vita per combattere sul fronte dell'ecologia, vi confesso che io per esempio contribuisco a Greenpeace, ma così a livello economico non faccio moltissimo, a livello personale, mi vergogno di questo, ma dal punto di vista culturale mi rendo conto che il problema ecologico è un problema enorme ed è uno dei più importanti che abbiamo ereditato dal passato e che oggi emerge. Abbiamo un mondo interconnesso, la postmodernità, questa comunicazione, questo villaggio globale di cui vi accende al libro, è una sfida che però può porre delle questioni. E da ultimo una crisi sanitaria globale chiamata, come tutti sappiamo, coronavirus oppure SARS-CoV-2 o Covid-19, insomma, a seconda che facciamo riferimento al virus o alla malattia che ne deriva. Questa è una cosa che era prevista, prevedibile, abbiamo avuto anche in passato la crisi di Ebola, la crisi della SARS, la crisi della cosiddetta influenza aviaria, abbiamo avuto la mucca pazza, una sindrome prodotta dal consumo di carne bovina trattata in un certo modo che minacciò, ci minacciò in passato, ma adesso abbiamo questa crisi senza precedenti che qualcuno aveva previsto ma che nessuno aveva immaginato. Ecco, quindi come tante proiezioni della storia vengano poi disattese, tante tante cose, e questa crisi finanziaria, questa crisi sanitaria avrà sicuramente, ormai tutti lo capiscono, una crisi finanziaria ed economica forse senza precedenti. Facciamo un piccolo riassunto delle grandi crisi economiche, quella del 29, Stati Uniti, quella del 73, abbiamo visto la crisi petrolifera, quella dell'87, non ve ne ho accennato, di Wall Street che interruppe la crisi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna sotto rispettivamente Reagan e la Thatcher, la crisi dei mutui subprime, cosiddetta del 2008, una crisi dovuta a una bolla finanziaria che fu devastante, colpì anche l'Italia, creò un grande buco nel bilancio, costrisse a chiamare al governo un certo Mario Monti, sanare le finanze pubbliche, insomma crisi di vario tipo, e adesso poi è una crisi molto pesante, perché il blocco, il lockdown della produzione, così come anche del consumo, non lascia sperare, si parla di andare sotto di 4, 5, 6 punti percentuali sul PIL, sul prodotto interno d'orto, ci cifre non raggiunte neanche durante la crisi del 29, in una situazione della crisi del 29, come se ne uscì lentamente, con politiche di welfare, se ne uscirà con politiche di welfare, l'Europa, l'organizzazione mondiale, più che della sanità, il Fondo Monetario Internazionale, sapranno fare politiche previdenti, finanziando il debito degli stati, affinché questi possano in qualche modo sopperire alle difficoltà dei privati, si assisterà a una crisi del capitalismo, come uno pensa, perché gli stati, già adesso, dovranno avere un ruolo dominante, gli stati decidono chi avrà finanziamenti e chi no, quali attività aprire e quali no, a quali condizioni, condizioneranno il tipo di azioni compiute dai privati, già adesso non si vede, tu vuoi aprire un ristorante, sì, ma devi farlo così e così e così, io ti finanzi, ti do la casa integrazione, ma tu fai quello che ti dico io, io Stato, si va verso una forma di socialismo involontario, di controllo pubblico del privato, per mantenere in piedi un'economia in una crisi che altrimenti sarebbe devastante, oppure questa è una frase provvisore che si tratta di un capitalismo selvaggio, ma ricordiamoci, il buco dello zono e il problema dell'effetto serra, potrebbe essere un'occasione questa per ripensare globalmente il modello di sviluppo, e a volte gli uomini non riescono a farlo spontaneamente, ci vogliono le guerre, le catastrofi, le crisi, perché siano costretti a farlo, potrebbe essere un'occasione, oltre che per fare didattica a distanza, e questo innovare qui in campo scolastico, che tra l'altro può anche essere per certi aspetti buono, voi vi risentite la lezione, ve la riascoltate quando volete e non vi dovete subire a scuola, così come ci può essere un'innovazione dopo questa crisi in campo didattico, può esserci in campo globale, quindi non tutto il mare viene per nuocere, anche i fiori nascono dall'etame, come cantava De Andrè, ma come in certo senso ci ha insegnato anche Hegel, ricordate Hegel, l'astuzia della ragione, gli uomini vogliono qualcosa e ne ottengono un'altra, è un po' anche la serendipity di Feyerabend, ecco allora le crisi, tutte queste crisi che abbiamo elencato, compresa l'ultima, quella che riassume tutte le crisi economiche a cui abbiamo assistito, oltre che sanitarie, quindi la crisi in Medio Oriente, le crisi degli anni 70, le crisi politiche, culturali, la violenza religiosa, la fine della guerra fredda, tutto questo è occasione di riflessione, non possiamo più andare avanti così, dobbiamo decidere come vogliamo vivere, è possibile continuare a vivere in questo modo qua, e l'Italia può continuare a spendere, spandere senza sanare il debito pubblico, può continuare a sperperare, può continuare a essere corrotti, insomma la situazione è questa, quella che voi dovete in qualche modo risolvere, che noi vecchi boomers vi lasciamo in eredità, essendoci comportati malissimo nei vostri confronti, perché vi hanno tolto risorse, inquinato l'ambiente, gravato di un debito assurdo a livello dello Stato italiano, insomma ci siamo comportati malissimo, e voi dovete uscirne, a partire dal quadro che vi ho delineato, che però potrebbe non essere così devastante come sembra, se voi valorizzate gli aspetti di crisi, secondo proprio il messaggio della serendipity, cioè gli obiettivi che noi ci ponevamo per voi, arrivare su Marte, su Saturno, si sognavano negli anni 60, non saranno quelli da perseguire, sarà da perfezionare la tecnologia informatica, sarà da creare un'intelligenza artificiale, un computer quantistico, il futuro non è quello che pensavamo noi negli anni 60, è tutt'altro, è sul microscopico, non sul macroscopico, cosa serve andare sui satelliti di Giove, freddi e bui, approfondiamo magari lo studio della Terra, approfondiamo altre cose, lo studio delle malattie, lo studio delle medicine, la farmacologia, l'ingegneria genetica, traguardi di un nuovo tipo di sapere, che sapete qual è la situazione, la tecnologia è anche distruttiva, per evitare questo bisogna farlo ancora di più, tornare indietro il possibile, dobbiamo essere ancora più moderni di quanto non siamo stati finora, per non devastare l'ambiente, non dire che la modernità è causa della devastazione, ma è totalmente moderni da risolvere i problemi che noi stessi abbiamo prodotto, insomma la situazione è completamente aperta, però le crisi che sono alle nostre spalle, ma che in fondo in qualche modo viviamo, sono lo sfondo a partire da cui noi dobbiamo decidere come andare avanti, tenete conto che partiamo sulla base di crisi, non partiamo sulla base di soldi fondamenti, ed è su questa base che voi più di me dovete creare un mondo, secondo me, nuovo, ecco la riflessione che io vi lascio in eredità, in un certo senso, e con ciò anche io vi saluto, e chiudiamo quest'ultima lezione della vostra vita scolastica di storia, siete contenti? Bene, spero che sia stata occasione di riflessione al di là delle prove che interessano a un certo punto, pensate che la scuola è un servizio che vi viene offerto perché voi pensiate, diventate migliori e più felici. Buonanotte.